Siamo tutti uniti, tutti per l'istruzione! Verranno tolti altri laboratori, altri laboratori! Taglieranno i fondi, noi non abbiamo il materiale per disegnare, per poter lavorare, diventeremo noi futuri precari! Noi saremo i nuovi disoccupati e questo noi non lo vogliamo, rega! Verranno eliminati tutti gli stage, tutti i laboratori! Ci stanno andando, ci stanno facendo un sacco di tagli alle scuole! 172.000, quant'è della rischio? Non lavoreremo più! Il corso dell'operatore sociale verrà eliminato, il mio corso! Non troverò lavoro e io questo non lo voglio! Il Diceo delle Scienze Sociali, Al Sabin, verrà trasformato nuovamente in un magistrale! Lo scientifico diventerà tutta un'unica cosa! Io, che sono di uno sperimentale, sono in via d'estinzione! Ci sarà lo scientifico e basta! E siamo venuti qua, volentoroti, con la voglia di fare, con la voglia di agire, con la voglia di farci sentire! Siamo venuti qua perché da pochi giorni è stata approvata una riforma, la cosiddetta riforma della razionalizzazione, come l'hanno chiamata! Una grande svolta! Una grande svolta per il Paese, l'hanno chiamata! Noi la chiamiamo un poverimento della cultura! Adesso è il momento! E adesso è il momento in cui abbiamo noi e noi studenti! Grazie!